salve ragazzi e bentornati dallo zio rex che adesso si farà sentire zio eccomi si e il Kingpin secondo video nonché secondo episodio secondo video del secondo episodio il primo video del secondo episodio il primo video del secondo episodio tecnicamente messo così è un po' strano da comprendere però in sostanza insomma il secondo posto non è poi così male no 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 neanche il terzo sei sempre il messicano spariato lo so abbiamo proprio travisato totalmente great piece of gaming dunque il nostro secondo episodio grazie a tutti quelli che ci hanno visto subbato, scritto, commentato insomma un ringraziamento siete pochi ma buoni un ringraziamento sì speciale un ringraziamento sentito speriamo che chi l'ha sentito? che con noi vi divertiate speriamo che chi l'ha sentito? che ha chi? il ringraziamento chi l'ha sentito? il tuo? no tu hai detto ringraziamento sentito da chi? chi l'ha sentito? no sentito nel senso ah sentito nel senso ha fatto piacere assolutamente insomma una cosa carina ecco ok dunque allora il primo episodio lo zio vi ha fatto un'introduzione zio vieni qua lasciala perdere quella lì dimmi che poi sta camminando qua le cassette vabbè con già quella delle fisiche straissime tranquillo allora lo zio mi ha fatto un'introduzione su Payday dove stai? vieni qui e mi giri intorno fammi capire ok sì ti giri intorno poi faccio il sonic della situazione ma ok eh produzione su Payday dunque fa piacere che abbiamo che abbiamo anche ricevuto cioè io personalmente ho ricevuto è un complimento da una persona che di gaming proprio non è interessata minimamente però ha detto che insomma si è divertita molto beh grazie al cavolo ogni scarrafone è bella mamma soia scusa esatto anzi ogni scarrafone è bella compagna soia fammi capire gioielli di famiglia tutto ah per una notte speciale uno dei pochi giochi è tra l'altro zio eh che praticamente traduce l'italiano in modo corretto sì già che non ho scritto gioielli di famiglia o famiglia esatto o goielli anche se qualcuno dovrebbe dire a questi signori che gioielli di famiglia in italiano eh sì significa un altro però vabbè dalla gioielleria al senso gioielli di famiglia per un futuro procreativo eh procreativo esattamente abbiamo la telecamera discorso sempre lo stesso siete un manipolo di ladri bastardissimi che ricevono contatti da questo Bane che vi dà questi colpi da fare dovete rubare tutto scappare con i sacchi meno danno possibile c'è silente e fare così sì vedo vedo c'è qualcuno che ci vede c'è silente dunque abbiamo la telecamera sola e la telecamera sola vieni qui c'è silente arrivo c'è silente è lui credo che sia Potter o no quell'altro come si chiama quello ciccione de quello cicciotto de 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 riposo ma questo c'ha un tocchè di maddemon però se lo vedi sì un po' maddemon sì il problema è che sta seduto su nulla vabbè sì non so perché sta seduto sull'aria ecco perché fuggite abbiamo una donna che è estremamente brutta eh vabbè ma noi non siamo qui esatto per vedere il pubblico o dopo ti faccio una cosa mentre tu sparerai ovviamente ai poliziotti e mi proteggerai io farò un pezzetto carino me lo sono preparato adesso qui ho intavolato tutto se non sbaglio volevo salire sopra ma non è il caso che salgo sopra no allora se vuole dovremmo entrare tutti e due da sotto eh sì da qua se vuole possiamo anche iniziare eh sì allora se tu mi occupi della telecamera qui io entrerei dentro dalla parte principale in modo che non faccio pulgire nessuno però credo che sia abbastanza inutile questa cosa eh sì lo so ma ok sto cercando ma eccola perfetto ottimo eh beh vai vai che vengo con te scusami ma fino a poco tempo fa ho ho giocato ad altro e quindi mi sono trovato a spingere i tasti un po' alla casa sì allora ragazzi noi stiamo lavorando per voi naturalmente stiamo preparando altri video con altri giochi fino a quando non finiremo i soldi e le idee uh 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 ah dai su fammi rispondere a certa persona sì sento che stai spaccando la tastiera ma non è che se premi forte gli ostaggi si mettono seduti è molto impattante la cosa ah qualcuno ti sta vedendo sì mi ha visto infatti io gli ho sparato praticamente in mezzo agli occhi eh vabbè e allora entro dai è inutile che entro della ok ok è partita la sirena sì eccellente spacchiamo tutto tu che hai il c4 puoi andare a cioè ci sono sopra vai a controlla sopra così almeno vediamo subito se si dovrebbero essere delle delle cose sì beh certo se io avessi portato il c4 naturalmente ah non l'hai portato ottimo ragazzo ma naturalmente no mamma mia perché noi dobbiamo imprevvisare fare le cose live no perché io devo ucciderti lo sai che significa non portare il c4 allora non portare il c4 per chi lo ha comporta comporta a dover mettere per forza ragazzo non mi prende questi ok non mi prende questi cose allora c'è una una cosa una cassaforte di titanio sopra che l'ho messa a trapanare ah ecco un altro ho trovato un bug o meglio un bug una situazione un po' particolare prova a prendere questi diamanti qua stia non era un bug ero io ero un bambino eh lo so ti sei buggato un attimo il cervellino eh sì abbastanza ero a pensare ad altro allora hai cascato qualcosa ai nostri 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 che cosa vogliamo dire non lo so io adesso nel frattempo faccio un bel portacene con la testa di questi sì sì fai con comodo io sto riavviando il trapano quando mettete il trapano noi ovviamente le cose le cose che non abbiamo detto l'altra volta le possiamo dire ora quando non mettete il trapano sì o quando mettete il trapano il trapano si potrebbe anche eh spegnere ah dai cazzarola ho fatto un ostaggio come una groviera eh vabbè capita allora io faccio nel frattempo l'ho detto la cosa che andrebbe diciamo detta che non abbiamo detto l'altra volta che esplorate le mappe perché spesso e volentieri e meno non nelle prime mappe ma in quelle che hanno aggiunto dopo è possibile trovare altre parti cioè del tipo qui c'è un concessionario no? sì e di solito ha qualcosina da rubare ok ok e questo trapano allora zio facci sapere zio cosa? stavo un attimo impegnato a sparare eh lo so lo so era un attimo impegnato a sparare a riparare il trapano e a controllare quante quante munizioni avevo e soprattutto il caffè l'hai messo su? sì 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 ho messo su ok ottimo la cosa più importante tu non è che puoi perdere tempo a stare a vedere munizioni no eh c'è ragione il caffè il caffè il caffè tra l'altro cari ragazzi questo è il primo video che facciamo dopo l'evento storico italiano che è la decadenza dei Berlusconi non che importi più del altro ma ci fanno pure tutte ci metti ma dai è una cosa terrificante nel frattempo io sto ricevendo una telefonata a cui risponderò no non puoi rispondere e lo zio farterà per me mi aspetta ah ok proprio così te ne vai allora è lavoro va bene tranquillo parlerò io per te o parlerò io al posto suo allora mentre il buon kingpin risponde al telefono non so perché risponda al telefono mentre facciamo i video ma una cosa totalmente oh era andato via noi continueremo a sparare a falciare gente tranquillamente parlando risistemando trapani che lui ha piazzato perché non ha il c4 vedete che il trapano si interrompe molto frequentemente oh mi lascia nella sparatoria ma io spero che almeno stia sparando un poliziotto con me ah no si è messo oh mio caro buon ragazzo le faccio notare che gli ostaggi stanno guarda che gli ostaggi stanno andando via oh questo mi sono allenato per il lancio del sacco è un è un vedi hop il lancio del sacco mamma mia che so bravo col lancio del sacco tiè io non so se sta sparando ah si sta sparando ringraziando il dio fateci caso però ha parlato della ha parlato del di Berlusconi e l'hanno chiamato non vorrei che stessero monitorando le nostre chiacchierate non devi mai parlare oh non devi mai parlare male delle persone non te conviene ragazzo non te conviene no perché stai buttando non lo buttare lì ah è proprio fermo dunque ti ricordi che devi buttare di qua io teoricamente si perché insomma e allora fallo mi sparo nel 637 me li stavi mandando sopra ti sto mandando te li sto mandando di là te li sto mandando si lo so mentre tu eri al telefono io stavo sparando la gente ha visto e dimostrato c'ho ma ti stai facendo passare di qua certo però bisogna andargli a prendere anche di là esatto intanto mi ricarico le munizioni noi adesso andremo si tranquillamente perché faremo praticamente fortino all'interno della cosa del concessionario fa talmente tanto fritto che ho le dita spaccate non posso neanche giocare non posso allora c'entrava un inceppato che io adesso corri 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 c'ercherò hop 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 ah di sceppare l'ho buttato di sotto di tinceppare si può dire di tinceppare ma perché hai fatto tutto questo perché ho sentito l'infrenabile bisogno di fare il kamikaze ma non ho capito come hai fatto il kamikaze ti sei buttato da dove mi sono praticamente lanciato da una parte all'altra dello stabile allora io direi prima di sgombrare l'attacco della polizia e poi al limite procedere cosa oppure io ti faccio la copertura attralgo un po' di di colpi coprimi ragazzo dov'è ma chi mi stava sparando che carino hanno messo il furgone proprio dietro la macchina della polizia si almeno così dici sai non se ne renderanno conto no credo che dobbiamo per forza attendere che ma assolutamente no eccomi dunque 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 così ok io ho messo anche le munizioni lanciameli fuori lanciameli fuori lanciameli passameli passameli ma che cacchio di lanci fai faccio i lanci i lanci sexy no non sono lanci sexy sono lanci da scemo perché parabola che morbidamente scende è iperbole allora una nota di merito va giustamente ai programmatori dell'intelligenza artificiale che siamo in 15 cioè c'è c'è lo zio rex che fa avanti indietro da solo io sto protetto da 4 persone e non riescono a ammazzare chi mi spara è uno spettacolo non gli dare indicazioni non gli dare indicazioni alle guardie fammi il favore c'è qualcuno che mi sta sparando soddisfazioni immense allora allora oh carino vedi che ha ripagato il tempo che abbiamo sprecato all'interno della cosa oh cosa della dell'autoconcessionario che c'è una sacca di soldi adesso faccio un po' di coperture si grazie io volevo fare un pezzettino non volevo non me lo stanno facendo fare questi sono lanci abbiamo una smoke grenade dove sta il dai ragazzi cazzo fighe allora adesso il problema potrebbe anche porsi giustamente lo zio ci insegna si che se c'è la fuga ma non dovrebbe esserci abbiamo una quantità considerevole di no non dovrebbe esserci tanto zio a qualsiasi volta dovremmo portare delle cose si delle cose la sega che sono diversi bancomat eh si ma il problema è che non possiamo portare la sega se siamo solo in due e tu lo sai bene giustamente vero vero senti ma che fai la andiamo si arrivo me lo farei un pezzettino ma non me l'avete fatto fare balordi non me l'avete fatto fare ma non me l'avete fatto fare oltretutto fa freddo perché fa freddo sto male e non mi avete fatto fare il pezzo ecco perché siamo al 28 di dicembre di novembre si bello 28 di dicembre vai ragazzo 28 di dicembre è veramente figo sono proprio talmente avanti nel tempo che ho sbagliato pure la data hai passato fuori su natale guarda si ecco il giochino delle carte si un gioco bastardissimo chiunque sia venuto fuori con questa idea mazzana dovrebbe veramente un attacco di diarrea ci dovrebbe yeah e in age devi parlare ma calcio pieno cioè tu quando vai dai polizzi ti devo dare un calcio pieno esatto dunque sono cose problematiche queste della vita si noi avremmo avremmo teoricamente terminato il secondo episodio noi abbiamo terminato il secondo episodio ma ma faremo oggi stesso credo che abbiamo anche il tempo di farlo non dico quasi subito o meglio dopo di questo ma si anche ma si probabilmente però insomma dai non si danno mai delle tempistiche nei canali perché poi ecco possono succedere cose che non è successo a me sono stata la DSLK no io ho detto che noi faremo un video non ho detto che noi certo upperemo il video subito dopo quest'altro che bisogna fare le cose con calma praticamente siamo italiani siamo nel siamo nel centro Italia quindi le cose le facciamo con calma non abbiamo fretta ok questa me la paghi però io volevo fare un pezzo e non me l'hai fatto fare non te l'ho neanche detto ma questo pezzo si può fare negli altri video o è necessario che ci sia per dei di mezzo no se vogliamo fare quell'altro e c'è la sparatoria la posso fare certo questo sarebbe stato questo sarebbe stato più carino perché l'avrei fatto su un ostaggio ah capito però insomma potrebbe anche scapparci una gioielleria terzo video molto rapida volendo ah si finiamo questo e mettiamo il terzo video va benissimo si mi piace ok e allora salutiamo i nostri gentili youtuber ascoltatori e li rimandiamo al terzo video che faremo che faremo subito il terzo video lo sottotitoleremo se la lingua mi assiste il pezzo il pezzo mamma mia in onore dell'occhio ma e se guarda che se sbaglio è finita io te lo dico se sbaglio è finita la potenza della tecnologia è eliminare quella parte ah beh certo e la reggitare dall'altra certo il problema è che l'abbiamo detto adesso quindi non fa niente va benissimo va bene allora ok ragazzi grazie seguiteci noi vi salutiamo un bacione esatto dal nostro canale The Great Pill of Gaming e stavolta l'ho detto bene veramente quindi un grande saluto dallo Zio Rex e un grande saluto anche da parte di Kimp0 oggi vuole fare le cose e invertire così è oggi è fatto stile radio sì oggi sì esatto e un grande saluto ciao 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 ciao